Carissimi amici, benvenuti in questa nuova lezione di fisiologia che è ovviamente la continuazione della precedente, stiamo parlando della fisiologia cardiaca, avevo detto che con questa lezione avrei iniziato a spiegarvi il ciclo cardiaco, quindi la serie di contrazioni dei ventricoli, degli atri e vi dicendo come avviene, qual è la sequenza, come variano i volumi, la forza di contrazione e tutto ciò che dovete conoscere. Però volevo ritornare un attimino nello schema precedente didattico, che ricorderete sicuramente, vi ho spiegato benissimo nella precedente lezione, quando vi ho spiegato l'accoppiamento, eccitazione e contrazione del cuore, vi ricordate, ricorderete sicuramente che a livello della membrana cellulare delle cardiocita è presente questa proteina che vi ho fatto così schematicamente in modo in verde, così un bel pallone verde, ma è una proteina integrale di membrana ed è uno scambiatore, vedete, uno scambiatore sodio-calcio e come sapete questo scambiatore, che cosa fa? serve per togliere via il calcio intracellulare quando non è più necessario per far avvenire la contrazione. Riprendete la precedente lezione. Per far questo utilizza come energia il gradiente dell'ione sodio, l'ione sodio sapete che è più concentrato all'esterno della cellula, quindi tende ad entrare secondo gradiente di concentrazione e l'energia liberata da questo gradiente serve a portare contro gradiente di concentrazione il calcio dall'interno all'esterno della cellula, quindi è l'opposto, è un antiporto come voi sapete. E quindi questo è uno dei modi con cui, che vi ho spiegato in precedenza, con cui la cardiocita toglie di mezzo, diminuisce la concentrazione intercellulare di calcio. Ora state ben attenti perché uno dei congetti importanti, molto importanti di cui parleremo e che vi accenno fin da adesso è il concetto di inotropismo. Adesso ve lo scrivo, inizio a scriverlo e vi faccio capire un po' che cosa significa, poi ovviamente però lo riprenderemo. E ora capirete perché inizio qui ad accennarlo, per il momento ad accennarlo. Cos'è l'inotropismo? L'inotropismo è una particolare capacità che ha il nostro cuore di enorme importanza ed è quella di riuscire a variare la forza di contrazione. Ecco questo in base ovviamente a stimolazioni esterne piuttosto che interne, quindi poi lo vedremo meglio. Quindi il cuore può contrarsi con maggiore forza, può contrarsi con una forza inferiore. Questa capacità di adattamento, quindi questa variazione della forza di contrazione in funzione delle variazioni esterne o interne del corpo, prende il nome di inotropismo. inotropismo. Quindi da che cosa è data? Non vi spiego qui tutti i fattori che sono alla base dell'inotropismo cardiaco. Però voi sapete ormai l'importanza dell'oione calcio all'interno della cellula. Se aumenta la concentrazione extracellulare dell'oione calcio, allora ovviamente questo innesca il fenomeno di contrazione. Quindi se permane maggiormente all'interno della cellula l'oione calcio, il Ca2+, allora questo va ad innescare maggiormente la concentrazione. Quindi questo, trattenere all'interno delle cardiocita l'oione calcio è un modo che ha il cuore per aumentare la forza di contrazione. E come può fare? Può farlo invertendo la capacità di scambio, questo è uno dei modi, ce ne sono altri per il momento, è giusto per farvi capire, dello scambiatore sodio-calcio che vi ho spiegato in precedenza. Sapete che funziona in questo modo, utilizza il gradiente dell'oione sodio che entra all'interno della cellula per buttare fuori l'oione calcio. Questo è il funzionamento normale dello scambiatore sodio-calcio, ma può anche fare il contrario. Immaginiamo di andare a inibire la pompa sodio-potassio-ATPASI. L'inibizione, la diminuzione della funzionalità, in ogni caso della pompa sodio-potassio-ATPASI, determina ovviamente che cosa? Ha delle conseguenze, cioè non riesce più a riportare come prima gli ioni sodio all'esterno della cellula e gli ioni potassio all'interno della cellula, come dovrebbe. Quindi di conseguenza se la pompa sodio-potassio-ATPASI si trova inibita, l'oione sodio non può uscire all'esterno della cellula e la concentrazione dell'oione sodio all'esterno della cellula non viene mantenuta. Di conseguenza, se è inibita la pompa sodio-potassio-ATPASI, ecco, i gradienti di sodio e di potassio, tale pompa, non riesce a mantenerli come voi conoscete, come vi ho già spiegato nelle precedenti lezioni. Quindi di ioni sodio ovviamente nello spazio extracellulare ne abbiamo di meno. Questo che cosa significa? Che lo scambiatore sodio-potassio non riuscirà ad utilizzare il gradiente dell'oione sodio che dall'esterno in genere entra all'interno della cellula facendo al tempo stesso per antiporto uscire l'oione calcio all'esterno. Non ci riuscirà perché a monte di tutto è presente la pompa sodio-potassio. La pompa sodio-potassio aumenta la concentrazione di ioni sodio nello spazio extracellulare e lo ione sodio poi viene utilizzato secondo gradiente di concentrazione dallo scambiatore e l'energia usata per rimandare il calcio all'esterno. Ma se questo la pompa sodio-potassio non lo fa, ovviamente lo scambiatore sodio-calcio non riesce a fare questo lavoro bene. Quindi che cosa significa questo? Che la concentrazione di sodio di conseguenza all'interno della cellula intracellulare aumenta e il nostro scambiatore non riesce più a far uscire fuori nello spazio extracellulare lo ione calcio. Lo butta invece dentro, quindi inverte la sua funzionalità, la sua funzione e di conseguenza aumentando la concentrazione dell'ione calcio, l'ione calcio poi va ad innescare come sapete la contrazione muscolare e di conseguenza questo aumenta l'inotropismo cardiaco, aumenta l'effetto inotropo del cuore. Quindi la capacità del cuore di contrarsi con maggior forza dal momento in cui la concentrazione intracellulare di calcio non diminuisce e quindi aumenta e di conseguenza la forza di contrazione cardiaca sarà maggiore. Questo quindi è uno dei fenomeni alla base, uno dei meccanismi alla base dell'inotropismo cardiaco, là dove il cuore deve aumentare la forza di contrazione muscolare, la sua forza di contrazione cardiaca. Va bene, allora detto questo discorso adesso chiudiamo qui il capitolo accoppiamento, eccitazione e contrazione e passiamo proprio al ciclo meccanico di contrazione, gli eventi di contrazione, quindi che cosa succede se si contraggono prima gli atri, se si contraggono prima i ventricoli, perché, come variano i volumi, come viene espulso il sangue, come si chiamano la contrazione, la sistole, la diastole, quindi la contrazione, il rilasciamento, le pressioni che ci sono e via dicendo, insomma adesso sembrano parole buttate a caso ma ovviamente tutta una logica, vediamo quello che è appunto il ciclo cardiaco. Adesso che ve lo spiego capirete che cosa voglio dire. Ecco quindi il nostro titoletto ciclo cardiaco, parleremo di tutti quegli eventi di contrazione, ecco quindi che sono la base dell'attività appunto prettamente meccanica del cuore, quindi il cuore come pompa in grado di contrarsi e quindi di conseguenza di permettere la circolazione del sangue, il flusso del sangue, di spinger via, compressione il sangue, nel piccolo circolo dal cuore ai polmoni e nel grande circolo dal cuore grazie all'arteria aorta poi al tutto il resto del corpo. e quindi vediamo quali sono, vedremo anche perché si chiama ciclo cardiaco, ciclo cardiaco è un ciclo perché un ciclo cos'è? Un ciclo qualcosa che si ripete e ovviamente il ciclo cardiaco è un fenomeno che si ripete e anche voi stessi ve ne accorgete, mettetevi un po' la mano sul petto, vedete che più o meno avete essenzialmente quei battiti cardiaci che si ripetono, quindi questo già vi fa intuire che deve esserci qualcosa di più complicato ovviamente che si ripete ad ogni, tra virgolette diciamo così per il momento, ad ogni, per ogni suono che sentite. Mi raccomando state bene attenti, dovete conoscere molto bene l'anatomia del cuore, quindi vi rimando ai miei corsi sia di istologia per conoscere l'anatomia microscopica del tessuto cardiaco, che è di anatomia macroscopica e i corsi di anatomia sia di istologia che di anatomia macroscopica e microscopica, per conoscere ovviamente anche l'anatomia macroscopica e microscopica di tutto il cuore. State bene attenti, quando poggiate, quando o con il fonendoscopio o auscultate i battiti cardiaci, oppure con l'orecchio a uscultate i battiti cardiaci dell'amico per curiosità, o anche mettendo una mano sul petto, sentite appunto il, percepite il battito cardiaco, quei battiti cardiaci sono dati esclusivamente, il suono che sentite, quello che percepite è dato dalle valvole cardiache che si aprono e si chiudono, quindi è questo il suono che sentite. Il suono, la percezione dei battiti cardiaci che potete auscultare non è data dalla contrazione dei ventricoli oppure degli atri, ma è data dall'apertura e dalla chiusura delle valvole cardiache. Qui vediamo la valvola tricuspide, la valvola bicuspide o mitrale, dovete conoscerli ovviamente, le valvole semilunari, qui vediamo la valvola polmonare a livello del tronco polmonare, che poi si dirama in arteria polmonare di destra e poi l'arteria polmonare sinistra e non si vede ma sotto a livello dell'aorta, all'imbocco dell'aorta abbiamo anche lì la valvola aortica, quindi in ogni caso l'apertura e la chiusura delle valvole dà origine al suono che voi sentite, ma non la contrazione, non è la contrazione del cuore, dà origine al suono che voi sentite, ma l'apertura e la chiusura delle valvole. Vediamo un po' adesso come si contraggono appunto atri e ventricoli e come pompano il sangue nel corpo. Allora, quindi che cos'è il ciclo cardiaco? L'altro non è che tutta quella serie degli eventi meccanici che avvengono in modo ritmico, di contrazione, eventi di contrazione e rilasciamento, contrazione e rilasciamento, contrazione e rilasciamento che avvengono affinché appunto il cuore possa funzionare come pompa e quindi pompare il sangue nell'organismo. State bene attenti a due termini di estrema importanza. Quando parliamo di contrazione, per esempio quando i due ventricoli si contraggono, questa fase prende il nome di sistole, quindi sistole sta per contrazione, per esempio la sistole ventricolare è il momento in cui i ventricoli si contraggono. All'opposto abbiamo la diastole, per esempio la diastole ventricolare invece è il momento in cui i ventricoli si rilasciano, quindi si distendono, si rilasciano, non sono contratti ma si rilasciano. Ovviamente alla base della contrazione e del rilasciamento sapete che c'è tutto ciò che vi ho spiegato prima e ciò è permesso da tutta l'attività elettrica del cuore dal meccanismo ovviamente dell'accoppiamento, eccitazione e contrazione del mio cardio che vi ho spiegato in precedenza, fino a poco fa, nella precedente lezione e fino a poco fa. Quindi vediamo adesso quali sono queste fasi di contrazione, rilassamento, sistole, diastole, come avvengono. Siccome poi ad ogni ciclo cardiaco si ripetono essenzialmente, sono sempre le stesse, ecco perché prende il ciclo, questi eventi che si susseguono a monoritmico poi si ripetono nuovamente, allora ovviamente ecco perché questi fenomeni fisiologici nella loro sommatoria prendono il nome di ciclo cardiaco. Quindi sistole è la fase di contrazione, la diastole invece è la fase di rilasciamento, l'opposto. Mi raccomando state bene attenti a questi due termini perché li vedremo molto bene nell'arco di queste e delle prossime lezioni. State bene attenti, come vi dico sempre, scrivetevi sempre tutto, ma tutto, tutto, tutto ciò che vi dico, tutto ciò che vi scrivo, i modellini che vi faccio vedere. Qui avete anche l'elettrocardiogramma che vi ho spiegato nella precedente lezione, che appunto vi fa capire l'attività elettrica del cuore e qui ce l'avete proprio associata, potete vedere ecco le varie onde dell'elettrocardiogramma associate a ciò che effettivamente accade da un punto di vista meccanico al cuore in termini di contrazione e rilasciamento. Però, ovviamente per capire come associare lo schemino dell'ECG alle varie fasi del ciclo cardiaco meccanico, ovviamente dovete conoscere l'elettrocardiogramma bene, quindi ve l'ho spiegato, andatevi a riprendere la precedente lezione. Allora, essendo un ciclo, essenzialmente potete iniziare da dove volete, dite tanto è un ciclo, parto da dove mi pare piace, tanto lì devo andare a finire. Da dove parto, finisco. Sappiate che in linea di massima noi abbiamo in stato di riposo circa 70-75 battiti per ogni minuto, che si chiamano anche BPM battiti per minuto, quindi sono circa 70-75 battiti per minuto, e ognuno di essi dura poco meno di un secondo, circa 0,8 secondi circa. Adesso io vi spiegherò ovviamente il ciclo cardiaco tenendo conto di disegnini che vi fanno capire le contrazioni dei ventricoli piuttosto che degli atri, o ancora il rilasciamento dei ventricoli piuttosto che degli atri, quindi la fase di diastole piuttosto che la fase di sistole, di sistole e di diastole, quindi però poi vi farò vedere anche un video molto bello in realtà virtuale in 3D, dove vedrete proprio, da un punto di vista dinamico, in questo video entreremo proprio dentro un ambiente in cui vedrete il cuore, ecco e poi lo sezionerò in modo da fare, inizialmente vi farò vedere cosa succede all'esterno, poi lo sezionerò per farvi vedere che cosa succede, ecco all'interno, e ovviamente per vederlo in 3D vi occorrono gli occhialini in 3D, questo lo posso vedere io in 3D, voi lo vedrete in ogni caso in 2D, però essendo che posso interagire in questo ambiente, posso avvicinarmi, piuttosto che distanziarmi, piuttosto che guardare dal basso verso l'alto, piuttosto che dall'altro verso il basso, e allora posso farvi vedere dei partichi, particolari, importanti affinché voi comprendiate meglio, sicuramente è un video che vi consiglio di guardare, e poi vi darò il link in descrizione, per il momento ovviamente il ciclo cardiaco ve lo spiegherò con queste immagini, ovviamente non è difficile da capire quando si contrae e quando si rilascia. Allora, dato che possiamo iniziare da dove vogliamo, in genere rispettiamo un po' la media, quindi la maggior parte delle volte, ma giusto così, di formalità, si inizia a parlare del ciclo cardiaco iniziando da dove? Dalle termine della diastole, quindi inizieremo a descrivere questa situazione, dove per diastole significa rilasciamento, quindi siamo in una situazione in cui il cuore è rilasciato, adesso ve lo spiego meglio, per poi parlare della fase successiva, che è la sistole atriale, quindi la contrazione, sistole sta per contrazione, quindi la sistole atriale è la contrazione, ma questa è la fase successiva, iniziamo quindi da qua, alla fine della diastole, in che condizioni si trova il cuore, state ben attenti, dovete scrivere tutto quello che vi dico, perché è di enorme importanza, è tutto un gioco di pressioni, quindi rendetevi conto di quello, se il cuore si contrae, sono presenti delle pressioni, quando gli atri o i ventricoli si contraggono, sono presenti delle pressioni, queste pressioni, queste pressioni, sono la causa dell'apertura o della chiusura delle valvole cardiache, quindi mi raccomando, le valvole cardiache, piuttosto che le valvole cardiache tricuspide, quindi atrioventricolare destra, o bicuspide, o ancora l'atrioventricolare sinistra, detta anche bicuspide o mitrale, e le valvole semilunari, aortiche polmonare, non si aprono e chiudono in maniera attiva, come il cuore che si contrae in modo attivo, la loro apertura e chiusura avviene in maniera passiva, sono delle differenze di pressione che determinano l'apertura e la chiusura di queste valvole, quindi mi raccomando, perché questo è un concetto molto importante, non c'è un impulso nervoso che è diretto alle valvole cardiache e determina uno stato di contrazione o rilassamento della valvola, non ha nulla a che vedere, quello accade nel mio cardio di lavoro presente in atri e ventricoli, le valvole cardiache sapete da un punto di vista istologico, anatomico e macroscopico come sono fatte e si aprono e chiudono in modo passivo in un gioco di pressioni, quindi soltanto per quello, e determinano la loro apertura e chiusura, determina proprio il suono che voi sentite quando poggiate l'orecchio sul tetto di chi volete voi e sentite il cuore a battere, piuttosto che col fonendoscopio andate ad ascoltare i battiti cardiaci, come vi ho già detto prima, non percepite il movimento delle contrazioni meccaniche di atri e ventricoli, ma percepite proprio questo suono dato l'apertura e chiusura delle valvole cardiache, quindi valvole cardiache, atrioventricolari e semilonari aortica e polmonare, mi raccomando, non hanno un ruolo attivo, hanno un ruolo passivo, sappiatelo perché è di estrema importanza fisiologica, sono dei dettagli di enorme importanza che dovete sapere, quindi partiamo da qua, ma attenzione, non da qua, da qua, cioè alla fine di quella che è la diastole, quindi il rilasciamento, quindi è questa, vedremo al termine della fine della diastole in che condizioni si trova il cuore e poi appunto vi farò capire che cosa succede in questo ciclo meccanico di eventi di contrazione, sistole e di rilasciamento di astole che permettono al sangue di essere pompato dal cuore. Quindi riprendiamo il nostro schemino, iniziamo da qua, alla fine di questa situazione del ciclo, quindi al termine della diastole, se lo attendi perché a breve non ve lo scriverò più, voi lo dovete sapere a memoria, sistole è uguale alla fase di contrazione, diastole è uguale alla fase di rilasciamento, se io dico siamo in sistole ventricolare vuol dire che i ventricoli sono contratti, la diastole ventricolare vuol dire che i ventricoli sono invece rilasciati, quindi partiamo da qua, dalla fine, dal termine, quello che è il termine della diastole, prima di esserci una nuova sistole, quindi contrazione sistole atriale, descriviamo che cosa succede al termine della diastole. Vi ho semplicemente ingrandito un po' il grafico, adesso ve lo ingrandisco un po' di più, quindi lasciate perdere questo start, non vi interessa qui start, partiamo da qua, vi ho già detto che partiamo da qua al termine della diastole, quindi è questa la descrizione che faremo, in che stato si trova il cuore qui. Mi raccomando, state attenti, aprite bene le orecchie, è una cosa importantissima, l'anatomia del cuore la dovete straconoscere bene, quindi non pensate che io sia qui a scrivervi i termini, sono robe che si conoscono anche alle scuole superiori, atrio destro, atrio sinistro, ventricolo destro, ventricolo sinistro, valvola atrioventricolare destra, detta anche tricuspide, valvola atrioventricolare sinistra, detta anche bicuspide o mitrale, valvola semilunare polmonare, a livello del tronco polmonare comune, quindi che poi ha origine alla arteria polmonare di destra e questa arteria polmonare di sinistra, quindi il ramo di destra, il ramo di sinistra, arteria polmonare di destra e di sinistra. Queste sono le vene polmonari, ormai non le vedete tutte, le vedete in sezione, sapete come sono già fatte dall'anatomia, le vene polmonari che imboccano l'atrio sinistro del cuore e qui il ventricolo sinistro comunica con l'arteria aorta, questo è il tronco aortico e poi ovviamente abbiamo l'aorta ascendente, tronco aortico, aorta discendente, via dicendo tutto quello che c'è, il ventricolo sinistro è in comunicazione con l'aorta grazie alla valvola aortica, questa qua. Quindi mi raccomando, questi concetti anatomici li dovete avere stra chiarissimi, anzi meglio. Descriviamo in che situazione, in che condizione il cuore in questa benedetta fine della diastole. Allora, state ben attenti, essenzialmente dovete osservare quello che vedete nello schemino. Al termine della diastole, già la stessa parola lo dice, quindi siamo in fase di rilasciamento, non in fase di contrazione, che cosa vedete? come si trova il cuore, se doveste avere la capacità di bloccarlo in quell'istante, al termine della diastole. Vedete che gli atri non sono contratti, le pareti degli atri sono rilasciate, lo stesso vale per i ventricoli, anche i ventricoli sono rilasciati, quindi sia gli atri che i ventricoli si trovano in diastole. Passiamo alle valvule, voi dovete descrivere tutto quando descrivete il ciclo cardiaco.